Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video con me. Oggi vi parlerò di un argomento molto importante. Prima di tutto ciò vi voglio far notare che appunto, come avrete già visto, ho cambiato location perché a causa del lockdown non posso spostarmi ma devo rimanere nella mia dimora. Detto ciò non vedo l'ora di parlarvi del nuovo argomento di oggi che a mio avviso è molto interessante. Prendo in mano il mio take note dove mi annoto tutto quello che devo dirvi e partiamo. Allora, prima di tutto Tinaba. Questo nome è il nome di una carta conto. Perché è carta conto? Perché è sia una carta prepagata ma è sia un conto bancario, ovvero incluso di IBAN, dove il vostro stipendio può arrivare in questa carta conto e potrete utilizzarla come vorrete. Allora, questa carta conto ha disponibilità di chiunque sia maggiorenne ovviamente. Potrete riceverla anche voi se la farete. Ma andiamo a vedere i pro e i contro. Tinaba. Con Tinaba le commissioni sono pari a zero. Ovviamente è una carta online, quindi non c'è una banca fisica dove potrete andare a richiedere qualsiasi cosa. È tutto online. Ovviamente siete seguiti senza alcun problema da persone sempre tramite web, ovvero con l'applicazione. Sarete assistiti quando vorrete e potrete chiamare il centro assistenza se in caso ci dovessero essere dei problemi. Comunque, tornando a noi, parliamo dei pro e dei contro di Tinaba. Allora, il pro di Tinaba è che grazie a Tinaba si possono ricevere dei bonus spendibili. Però il contro, chiamiamolo così, questi bonus spendibili non si possono spendere come si vogliono, ma ci sono delle limitazioni. Ovvero, Tinaba dice, io ti do questi bonus regalo, che poi vi spiego come farete ad averli. Ma ha una condizione, che li spendiate in questi contesti, in queste categorie. Ovvero, potrete utilizzarli facendo la ricarica telefonica, che questa è una delle migliori secondo me. Poi, pagando il taxi, una cosa un po' strana, però, vabbè, se per loro è una cosa molto utile. E pagando alcune bollette, alcune cose. Questi bonus, quindi, sono utilizzabili in certe categorie, che adesso vi mostrerò. Come notate, queste sono le categorie. E io utilizzo, appunto, quella della ricarica telefonica, che penso che sia una delle migliori. Come si fa a ricevere i bonus? I bonus potrete riceverlo già dall'inizio, già da subito, se con il mio link voi scaricate l'applicazione. Una volta che scaricate l'applicazione, ci sono, ovviamente, delle parti burocratiche da fare. Ovvero, inserire nome, data di nascita, codice fiscale, carte d'identità. Giustamente, questo è quello che vi chiedete, Tinaba, perché è un conto corrente a tutti gli effetti. Quindi, con zero commissioni, quello si è da dire, è molto comodo. Però, è un conto corrente a tutti gli effetti. E hanno bisogno di sapere i vostri dati personali. È tutta roba sicura, ecco. Una volta che avrete inserito i dati, Tinaba verificherà il vostro account. E poi potrete iniziare a utilizzare la carta. Come ricevere 5 euro di bonus subito? Dovrete scaricare l'app con il mio link, appunto, come vi dicevo prima. Una volta che avrete scaricato l'app con il mio link, voi riceverete 5 euro di bonus solo se prima farete una ricarica di almeno 5 euro. Quindi, ricaricate la carta di 5 euro e riceverete subito dopo, è una cosa istantanea, 5 euro di bonus. Allora, io l'ho provata e vi assicuro che funziona. Sono arrivata a 40 euro di bonus. Adesso vi spiego come fare. Scaricandovi l'applicazione col mio link, voi riceverete questi soldi. Una volta che voi vorrete invitare delle persone col vostro link. Perché Tinaba vi dice, voi volete invitare persone, amici con il vostro link? Non c'è problema. Se lo farete, noi vi daremo 20 euro di bonus. Non 5, ma ben 20 euro. Questo io l'ho fatto con, adesso, per il momento, l'ho fatto con il fidanzato e mia mamma. E ho ricevuto 40 euro di bonus, che sono andata a inserirli nella mia ricarica telefonica. Questi 40 euro di bonus verranno detratti ogni mese dalla mia ricarica telefonica. È una cosa comodissima e sono 40 euro gratis, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto. Tutte le cose che, ovviamente, vi sto spiegando, le sperimento prima io. Giustamente, io la vedo così. Allora, quindi, una volta fatto tutto, la carta, dopo qualche giorno che voi avrete fatto Tinaba, vi arriverà per posta. Inoltre, qualsiasi dubbio, perplessità, Tinaba vi risponde. È un'applicazione comoda, semplice ed è molto, molto chiara. Un'altra cosa molto interessante di Tinaba, che vi offre, è la possibilità di ricevere 100 euro gratuiti, a patto che facciate un versamento mensile di 50 euro per 12 mesi. Quindi, alla fine dell'anno, alla fine del versamento di 12 mesi, riceverete 600 euro, che sono i vostri soldi che avete messo da parte per 12 mesi, assolutamente vostri, e potrete fare quello che vorrete. Inoltre, Tinaba vi regala 100 euro. Quindi, se ancora non l'avete scaricata, o non la conoscevate, e vi interessa, mi raccomando, scaricatevela col mio link, così, una volta fatta la ricarica di 5 euro, riceverete 5 euro di bonus, e inoltre, se voi inviterete qualche vostro amico o parente con il vostro link, riceverete 20 euro. Bene, detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia potuto essere utile in qualche modo, spero che vi schiaricate l'app, e spero che anche a voi sarà utile come lo è stato per me. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, che ci saranno altre novità. Ciao!